Gli era accaduto nel parcheggio di un supermercato mentre faceva manovra con l'auto. A quel punto due siciliani, una volta visto il portafogli a terra, si erano avvicinati e non ci avevano pensato due volte. Uno aveva fatto da palo, mentre l'altro lo aveva raccolto in tutta tranquillità. Peccato che il furto era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state vagliate dai militari della stazione di Urbino dopo la denuncia da parte dell'anziano derubato. Il fatto risale a 2 settembre scorso, quando il 77enne, che era andato a fare la spesa, si era accorto di aver perso l'oggetto contenente 1000 euro in contanti che gli sarebbero serviti per effettuare dei pagamenti. Dopo aver chiesto informazioni alla cassiera e aver cercato in vano nel parcheggio, si è recato in caserma. L'attività investigativa si è conclusa ieri con due denunce a piede libero nei confronti di altrettanti uomini di 32 e 40 anni, entrambi operai incensurati, che erano arrivati nel supermercato della città ducale a bordo di un autocarro da lavoro. Il denaro, invece, è stato restituito alla vente diritto. Inoltre, i militari della Compagnia Carabinieri di Urbino, comandati da Renato Puglisi, hanno eseguito un arresto presso una comunità terapeutica di Pesaro. A finire in manette, è stato un 52enne di Urbania destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per la pena di due anni e undici mesi. L'uomo, nel dicembre del 2017, si era reso responsabile di una rapina aggravata e quindi a mano armata ai danni di un istituto di credito di Urbania. Questa mattina è stato portato nella casa circondariale di Villa Fastigi.